Ragazzi, questo dispositivo di cui andremo a parlare oggi, secondo me, sarà veramente molto interessante. E' vero ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video che non è propriamente un video rumors perché andremo a parlare solamente di un dispositivo in particolare che sicuramente avrete già letto dal titolo, ovvero l'iPhone SE 4. Perché ragazzi voglio parlarvi dell'iPhone SE 4? Beh, perché secondo me sarà effettivamente molto interessante e molto di più rispetto ai modelli precedenti. Perché sì, ormai lo sappiamo tutti, l'iPhone SE 3, 2 e in realtà l'1 no perché era simile all'iPhone 5S, però ecco, gli ultimi due modelli di questa serie di iPhone che dovrebbe essere in teoria, molto in teoria, la serie economica di iPhone perché oggettivamente è più economica degli iPhone classici, però costa comunque tanto e secondo me è il prezzo sproporzionatissimo all'offerta perché tu non mi puoi far pagare quasi 600€ un iPhone che ha quelle caratteristiche. Per quanto mi riguarda, eh, questa è una mia semplicissima opinione, poi ci ho fatto anche già altri video sull'iPhone SE. Se sapete quello che ne penso, penso che sì, va bene tutto il discorso del fatto, eh, ci sono quelli che sono abituati al tastino home, eh, ci sono quelli che non gliene frega di avere il display OLED, o quelli che non gliene frega di avere il Face ID, quello che non gliene frega di avere tre fotocamere, avete ragionissimo, va bene tutto. Però, ragazzi, secondo me serve anche un po' di brio, cioè nel senso, io va bene l'abitudine, ma ormai siamo nel 2023, ragazzi, un iPhone del genere, tra l'altro, pagarlo così tanto non so quanto senso abbia. E infatti pare che anche Apple stessa l'abbia capito, per cui questo iPhone SE 4 dovrebbe cambiare totalmente. Prima di tutto, il design. Tra l'altro sono usciti dei render che mostrano veramente nei minimi dettagli come potrebbe essere, come dovrà essere questo nuovo iPhone SE 4, e ragazzi, il design praticamente è quello di un iPhone 13, 13 mini, come lo volete, ecco, dovrebbe avere 5.1 pollici con il notch, il notch dovrebbe essere quello sempre presente nella linea iPhone 13, quindi leggermente più piccolo rispetto a quello dell'iPhone 12. Il design, appunto, dovrebbe essere a mattoncino, quindi moderno, non l'ultimissimo modello, infatti, come vedete, questa cosa si ripete, no? Con l'iPhone SE 1 era uscito quando già c'era l'iPhone 6 che era tutto sondato. L'iPhone SE 2 e 3 sono usciti quando poi era uscito il mattoncino, quindi era indietro di una generazione, ora sembrerebbe che anche questo sarà indietro di una generazione, perché se ci pensate, i nuovi iPhone non sono più proprio a mattoncino, ma sono un po' più stondati. Invece questo iPhone SE dovrebbe tornare a mattoncino, proprio come abbiamo avuto fino alla serie iPhone 14. Dovebbe essere anche abbastanza colorato, nel senso dovrebbero essere rilasciate delle colorazioni abbastanza vivaci, non tutte le colorazioni che abbiamo con gli iPhone, quelli non pro, quindi non vi aspettate un iPhone SE rosso, giallo, verde, di tutti i colori disponibili. Due, tre colori, sicuramente il nero, il bianco e poi magari faranno, che ne so, un blu, un rosso, non lo so. Dovebbero esserci un po' i soliti colori a cui Apple ci ha abituato. Dovebbe avere poi la USB-C, perché, ragazzi, non è tanto per una scelta di Apple, perché sono sicuro che Apple potesse mettere bene ancora il Lightning su questo iPhone, ma semplicemente perché è obbligata dall'Unione Europea di mettere appunto la USB-C. Quindi sicuramente avrà la USB-C, ma sicuramente anche, non sarà ovviamente Thunderbolt, ma sarà quella castrata del 2004, tipo, ecco. Quindi, insomma, non vi aspettate nulla di straordinario, semplicemente la forma della USB-C. Dovrebbe avere poi una singola fotocamera, che dovrebbe essere abbastanza di qualità. Anche qua, non vi aspettate la qualità dell'iPhone 14 o dell'iPhone 15. Secondo me sarà più o meno la fotocamera presente su un iPhone 12, ti è forse iPhone 13. Su questo non ho letto, purtroppo, dettagli maggiori, quindi ipotizzo io che potrebbe essere al massimo una fotocamera principale dell'iPhone 13. Una singola fotocamera, ovviamente. Con, comunque, un design che ricorda sempre gli iPhone attuali, quindi con questa sorta di smussatura sulla fotocamera, una parte lucida, la parte opaca. Secondo me è veramente fighissimo. E, ragazzi, quello che a me veramente sballordisce e che su questi render è stato inserito, è il tasto azione, ragazzi. Cioè, potenzialmente questo iPhone SE 4 potrebbe avere il tasto azione, cosa che non abbiamo sugli iPhone 15 standard. Ora, anche qua bisognerà vedere quando effettivamente uscirà questo iPhone SE 4 e presumo, penso almeno io, che non uscirà nel 2024, magari nel 2025, perché a quel punto anche gli iPhone 16 standard avranno il tasto azione. Quando uscirà questo iPhone, tutti gli iPhone top di gamma avranno il tasto azione. E quindi lì avrebbe senso. Farlo uscire adesso, questo, con il tasto azione, mentre l'iPhone 15 standard no, sarebbe un po' una presa in giro nei confronti di quelli che ti vanno a spendere più soldi. Quindi questo ci fa anche capire che, effettivamente ce l'avrà, non sarà un dispositivo nel rilascio imminente. Cosa più importante e che mi sono scusato di dirvi quando vi ho parlato del notch è il display. Il display dovrebbe essere finalmente un OLED, non più l'LCD con il tasto home a cui c'eravamo abituati, un tutto schermo OLED. Anche qua, tanta tanta roba. Quindi, insomma, ragazzi, questo iPhone SE dovrebbe essere spettacolare per quanto mi riguarda e non nego, ragazzi, che io come muletto, come secondo dispositivo, me lo comprerei. Poi, ovviamente, non lo farò perché quei soldi li potrei spendere in cose un po' migliori, ecco. Però io, come dispositivo secondario, questo lo comprerei, lo consiglierei veramente a tutti, alle nonne, alle mamme, ai figli che vogliono prendere il primo telefono, a tutti quanti. Poi, ovviamente, bisognerà vedere anche il prezzo. Io presumo che se Apple ti fa un iPhone del genere, sicuramente il prezzo aumenterà. Ovviamente, dentro non ci sarà l'ultimo chip disponibile. Ovviamente, dentro non ci sarà il chip dei Pro. Probabilmente ci sarà il chip disponibile in quel momento per gli iPhone standard. Quindi, non lo so, magari l'A18 standard, non lo so. Vedremo anche qua se ci saranno maggiori dettagli in futuro. Però, ecco, in generale, se il prezzo non dovesse superare i 600€, questo, secondo me, è l'iPhone da comprare assolutamente. Se invece dovesse andare un po' oltre i 600€, già 680€, allora lì già non so se ve lo consiglierei... Cioè, se lo consiglierò quando uscirà, perché potenzialmente potreste trovare gli iPhone un po' più vecchiotti, ma comunque super moderni, a un prezzo molto paragonabile. Quindi, ragazzi, che sia finalmente la svolta dell'iPhone SE. Speriamo, ragazzi, speriamo, perché attualmente io non riesco a dargli un senso. Io all'iPhone SE non riesco a dargli un senso. L'ho provato anche scorso anno, o era già il 2024, non mi ricordo. Però, ecco, l'ho provato, era quello di seconda generazione, ma più o meno siamo come quello di terza. E, ragazzi, io non riuscirei a utilizzarlo come dispositivo principale. Ve lo direte, eh, ma tu sei abituato, è normale? Cioè, metti uno che magari viene ad un iPhone 7. Sì, ragazzi, ma io quello che... Allora, io vi domando una cosa. Tu, persona che hai acquistato l'iPhone 7 al day one, mettiamo caso, vuoi cambiare dispositivo, ma non ti viene voglia un minimo di cambiare? Cioè, non ti stanchi ad avere sempre il solito iPhone che praticamente è quello. Cioè, da un iPhone 7 e un iPhone SE, il phone factor è quello. Sì, vedrai un po' più di velocità, ma anche il lato fotocamera non è che fai un salto incredibile. Quindi, boh, cioè, io onestamente mi stuferei ad avere lo stesso iPhone per dieci anni consecutivi. Poi, non lo so, vedete voi, magari sono io che faccio dei ragionamenti senza senso. E, per carità, ci sta, però. Chi dice che gente che ha l'iPhone 7 si va a prendere l'SE, io al posto loro non penso lo farei. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate dell'iPhone SE attuale e potenzialmente di questo nuovo iPhone SE che dovrebbe essere molto più interessante. Quindi, parliamone qui sotto nei commenti. E, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di poter lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto. E noi, ragazzi, ci vediamo, come sempre, qui su YouTube con un prossimo nuovo video. Ciao!